Buongiorno e ben ritrovati a tutti carissimi telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che come sempre si apre ogni mattina alle 7 e mezzo in diretta con la lettura del Santo del Giorno, quindi l'almanacco e poi le previsioni del tempo, cominciamo subito dal Santo di oggi, oggi è San Bartolomeo, il sole è sorto alle 6 e 20 e tramonterà alle 20 e 01, il tempo per la giornata di oggi con il sito del meteo.it, vedete temporali al nord e sulla Toscana, oggi addirittura nubi fragili nel nord Italia e sulla regione Toscana, sole invece al sud, vedete, mentre peggiora nella parte centrale dell'Italia. Le previsioni della protezione civile per oggi, tra l'altro alle 7 e 30 per chi ci segue già a Fano sta piovendo, questo è il tempo in diretta, eccolo qua con l'immagine della nostra webcam che ci segnala praticamente il tempo in questo momento. E allora per oggi che cosa prevede la protezione civile delle Marche? Prevede cielo nuvoloso, lo andiamo a vedere subito, eccolo qua, con alternanze di scherite ed annuvolamenti più intensi in particolare nelle zone lungo il crinale appenninico, avremo deboli e sparse precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, le temperature sono in ulteriore lieve aumento, i venti sono sud occidentali, il mare sarà inizialmente poco mosso, poi il motondoso aumenterà fino a diventare mosso nel pomeriggio. Domani, mercoledì 25 agosto, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in ulteriore aumento, eventi di brezza attesa sud orientali, poi per i prossimi giorni avremo stabilità a partire dalla giornata di mercoledì, lo vedremo tra un istante, con progressivo consolidamento del regime anticiclonico. Sarà di stampo africano, quindi sarà di nuovo estate. Allora, la notizia del giorno è che domani a Pesaro tornerà per la quarta volta il Premier Matteo Renzi, ci faremo ascoltare dal Premier, chiederò una legge speciale per Rossini, dice il Sindaco di Pesaro, che è anche Vice Presidente nazionale del partito guidato da Renzi, lista di richieste del Sindaco Ricci per ottenere fondi dal Governo. In base alle anticipazioni, il Premier farà un discorso importante sui nuovi interventi. che è sotto, vedete, un momento di una conferenza, credo che si tratti di qualcosa che è avvenuto a Roma, la quarta visita del Presidente, l'ultima volta che è stato nella nostra provincia, è datato maggio 2014. Già Matteo Renzi era Premier la volta precedente, era invece venuto sempre a Pesaro nel dicembre del 2013, è una prima volta nell'ottobre del 2012 a Urbino, dove tra l'altro fu anche, ricorda il Carlino, contestato. Le accuse del Consigliere Bettini, a Renzi, dice Bettini, direi che qui fanno solo, qui a Pesaro, o in provincia, comunque fanno solo feste e pochi fatti, così dice il Consigliere Comunale di Forza Italia a Pesaro, Alessandro Bettini. Guardate questo signore, questo signore altro non è che il Presidente della Repubblica Slovacca, si chiama Andrei Chisca e Andrei Chisca con la famiglia è a Marotta, a San Costanzo, con la moglie e i figli. Le vacanze segrete del Presidente e famiglia, il capo di Stato slovacco ha trascorso una settimana di ferie a Marotta e a San Costanzo. È un imprenditore, filantropo, milionario, era con la moglie e i quattro figli, e quindi naturalmente divise allertate per dire che i carabinieri, le forze dell'ordine comunque sapevano, erano state avvisate che il Presidente slovacco era nella nostra provincia e dunque stavano con discrezione, ma comunque stavano in allerta e stavano lì pronte ad intervenire in caso di necessità. Catturato il rapace della spiaggia, rapace inteso come ladro, ladro di oggetti sotto l'ombrellone, il responsabile è sempre il 43enne già finito in carcere alcuni giorni fa. Allora andiamo adesso sulla pagina 3 del resto del Carlino, perché? Perché la pistola puntata in faccia dice questo titolare del distributore di San Lorenzo in campo, la pistola puntata in faccia mi ha afferrato per la testa, poi mi ha chiuso nel box. San Lorenzo in campo, intervista al benzinaio rapinato. Dunque sono stati minuti di autentico terrore quelli che questo benzinaio senigalliese, rapinato sabato sera il distributore di San Lorenzo in campo, ripercorre ricostruendo l'accaduto. Però, attenzione, il bandito che ricorderete è un bandito che è arrivato con la motocicletta, con il casco, insomma ha fatto tutto da manuale, tutto preciso, professionista del crimine, però ha commesso un errore. Qual è secondo voi questo errore? Siccome siamo in estate facciamo anche un po' di cruciverba via etera. Allora, qual è l'errore secondo voi che ha commesso, potrebbe aver commesso questo professionista del crimine? Ha preso il gestore, l'ha portato dentro il box, lo ha chiuso dentro, gli ha detto non dire nulla e non avvisare le forze dell'ordine. È un professionista ma ha commesso un errore. Quale? Ve lo dirò alla fine della rassegna stampa. Camilla, Camilla in corsa per Miss Italia, superata la dura sfida regionale, le sue foto nel nostro sito web, cioè quello del resto del Carlino, è una studentessa diciottenne fanese pronta per la selezione finale di Agliesolo. Eccola qua la nostra Camilla Barduagni, questo è il nome, il cognome, già Miss Cinema Marche. Sotto invece la politica con le nuvole, le nubi sinistre su Davide Rossi, espresso un no per la segreteria di serie. Questo è avvenuto tutto nella giornata di più o meno di sabato, tutta questa cosa. Non so quanti di voi l'hanno seguita, la ricostruiremo tutta la vicenda politica questa sera nel telegiornale Occhio alla Notizia. Comunque ve la risumo brevemente. Davide Rossi lo conoscete, è stato il fondatore, il cofondatore insieme a Stefano Guzzi della Tua Fano, per un po' di tempo è stato anche assessore, così come è stato vicepresidente della provincia, con Matteo Ricci, insomma di politica ne ha fatta tanta ed è quindi uno che ha da questo punto di vista anche esperienza. A un certo punto Santorelli e Garbatini di progetto Fano, quindi del centrodestra, vengono a sapere che il sindaco Massimo Seri ha intenzione di farlo rientrare in comune e addirittura dargli il ruolo di capo di gabinetto, a questo punto Santorelli e Garbatini di progetto Fano, appunto del centrodestra, scrivono ai giornali, scrivono alla stampa e dicono guardate che il sindaco ha intenzione di far entrare, ritornare in grande stile Davide Rossi dandogli questo importante e prestigioso incarico. E quindi lanciano lì questa cosa. Naturalmente un nome che comunque chi ha seguito le cronache politiche degli ultimi anni, le vicende politiche degli ultimi anni, un nome che è legato ad alcune situazioni politiche, niente di che, normale amministrazione politica, insomma, normale buttad politica. Ecco, un nome che a quanto pare non a tutti va bene. Così anche Sinistra Unita e lo stesso Partito Democratico con il segretario Marcheggiani, ieri con una nota hanno detto no a Davide Rossi. Quindi anche la sinistra dice no a Davide Rossi, candidato alle comunali del 2014, nella lista civica Noi Città, che è espressione del sindaco Massimo Seri. Quindi no a Davide Rossi nella segreteria di Seri. A porre il veto politico sono il PD e Sinistra Unita. Ora, come la prenderà il sindaco Massimo Seri? Cosa dirà? Lo vedremo e lo scopriremo soltanto nelle prossime ore. Adesso, intanto, le altre notizie. Prendiamo adesso il Corriere Adriatico. A Pesaro, 3.000 firme per le scogliere. Ampia adesione alla petizione sono due i progetti per il litorale di Ponente. La difesa di Igli da Forfè. L'avvocato a sole non andrà alla RIS, il perito sul luogo del delitto. A Fossombrone, corso sconnesso. Adesso il Comune corre ai ripari. La via principale del centro storico, versa in condizioni precarie. I lavori furono eseguiti 11 anni fa. La pagina di Fano, invece, la fiera, la fiera di San Bartolomeo. Tre giorni di offerte per tutti i gusti. Al Via La Fiera, che nella zona mare, schiera 240 ambulanti da tutta Italia. Le ultime novità nel settore della casa affiancate da vestiti, giocattoli, prodotti alimentari e ferramenta. Per 68 posteggi, stilata una graduatoria. Quelli che resteranno vuoti verranno assegnati questa mattina. Poi, sotto, un'altra notizia importante. L'andiamo a vedere qua. Perché? Ci fa anche piacere. Perché no? Tra più di 1200 fotografie, pensate, quella che ritrae la piazza 20 Settembre. Qui deve essere stato molto bravo il fotografo, che si chiama Riparolo. Ebbene, tra 1200 scatti, la piazza di Fano, piazza 20 Settembre, si è piazzata al 43esimo posto. Insomma, un bel risultato. Ed è adesso tra le 43 finaliste di un concorso che è votato online. E dunque il titolo, giustamente, è piazza 20 Settembre, amata sul web. La pagina di Pesaro del messaggero, la apriamo e la evidenziamo, la zoomiamo sull'estate che ricomincia mercoledì. Perché da mercoledì è confermata una perentoria espansione dell'alta pressione africana, che riporterà condizioni meteoclimatiche decisamente estive. E dunque avremo di nuovo temperature che si aggirano intorno ai 35 gradi. Questo a partire da mercoledì. Poi, il quarantenne che rubava sotto gli ombrelloni, colto sul fatto, è arrestato ancora dopo dieci giorni. Quindi è seriale e recidivo. Non gli è bastato, infatti, l'arresto di dieci giorni fa a Pesaro, in spiaggia. Perché sabato pomeriggio è stato di nuovo arrestato dai carabinieri per altri furti sotto l'ombrellone. 43 anni, pesarese, disoccupato, è tornato nuovamente in spiaggia ai bagni Vanda. Poi, sulla pagina di Fano e Pesaro del messaggero, oggi è lunedì, quindi ci sono gli inserti sportivi, è ricominciato il campionato di calcio. San Bartolomeo, la fiera, comincia la grande fiera, mobilitati vigili urbani. Migliaia di fanesi turisti alla Sassonia. Poi, staff del sindaco, gli alleati stoppano l'ipotesi Davide Rossi. I segretari di PD e Sinistra Unita dicono, inimmaginabile che il fondatore della tua Fano diventi capo di gabinetto. E chiudiamo con Senigallia. Senigallia, malori al concerto DJ Ax, giovani in attesa, già dal pomeriggio davanti al Mamma Mia. Alcuni si sentono male, due cadono e si feriscono. Senigallia invece, sempre da Senigallia, rischiano la vita per tuffarsi dal molo. Giochi pericolosi di alcuni ragazzini. Si tratta di tuffi pericolosi dal molo dove i ragazzini si arrampicano anche sul faro, quello verde, a Senigallia, all'ingresso del porto. Insomma, tuffi che sappiamo purtroppo a volte sono e rovinano la vita. Allora, dove ha sbagliato il professionista, il ladro professionista che ha rinchiuso nel box l'imprenditore, il gestore dell'impianto di metano di San Lorenzo in campo? Lo ha chiuso dentro, ha fatto tutto, però si è dimenticato che cosa? Di togliergli il telefonino dalla tasca. È tutto, buona giornata, a domani. Grazie.